Allora questo è il video su alcuni prodotti che ho comprato, sono 5 prodotti, perché non mi ricordo altri prodotti che ho comprato, non me li ricordo, mi rendete conto non mi ricordo che prodotti ho comprato, anzi sono 6 perché ho comprato anche questi fazzoletti che ho sentito parlare bene da Camilla Milanese, che lei li usa e si trova bene, quindi li ho voluti provare anche io, infatti li sto provando, li sto testando perché oggi me, anzi da ieri c'ho il raffreddore, quindi li sto testando e vi farò sapere. Allora queste costano o 99 centesimi o 88 centesimi al penny, sono 150 se trovo dove l'ho letto, che palle, anche nel video prima troverete questi non piccoli, questa non piccoli mi manca urla sempre, dopo che gli avevo detto stai zitta, allora questi sono 150 fazzoletti, scusate c'ho gli occhiali, ecco, ora so dove metterli, quindi sono 6 prodotti, poi c'ho questo bagno e schiuma che ho già iniziato a usarlo, che sa di pino, si come que, c'ha lo stesso odore di, come si chiama, quel lato bagno e schiuma fatta a pino, proprio che c'ha anche i pegagiri, fatta a pino, c'ha lo stesso odore, non ci vado matte, però ho trovato questo, il penny, e però non so quanto costa, perché non ho visto quanto costa, l'ho preso e via, lo farò sapere se con me, se mi garda ancora e se lo ricomprerò, poi ho comprato il penny, c'erano queste, come si chiamano, salvette della fria, due pacchi a 1,49, quindi l'ho comprato, perché l'avevo già visti ai penny, però non li avevano cambiato posto, sono struncanti occhi, viso, la labbra, allora ci sono 20 salvette, pacchetto normale, più hanno aggiunto 5 pacchetti, 5 salvette in omaggio, quindi sono 20 e 20 fanno 40, 5 e 5 fa 10, sono 50 salvette, queste le devo ancora usare, perché ho ancora le salvette che ho comprato in farmacia, che non mi ricordo se ve le ho fatte vedere, non mi ricordo, però mi sa che non ve le ho fatte vedere, perché sono una pessima ragazza, ci sono queste, della Judy, e queste sono 72 salvette, io le ho comprate a febbraio, però ancora perché non le uso sempre, e nulla, e le ho pagate 1 euro e qualcosa, perché era in offerta, erano l'ultimo pacchetto, se no l'avevo presi anche un altro pacchetto, perché a febbraio ero rimasta senza salvette, e sono andata in farmacia per altre cose, l'ho visto e ho detto, queste sono mie, poi le avevo viste, non mi ricordo sui canali di un altro youtube, che non mi ricordo chi era, e le parlava bene, quindi le volevo provare anch'io, nulla, via, poi, ultimi due prodottini, questo video sarà proprio veloce veloce, mi dispiace, ma non me lo do altri prodotti che ho comprato, come posso fa, aspettate, io mi devo soffiare il naso, aspettate, fra qualche minuti, fra qualche minuti, allora rieccomi, dopo avermi soffiato il naso, e ora vi faccio vedere gli ultimi due prodottini, che ho acquistato, questa, che mi pare di avervela già fatta vedere il video prima, vabbè, questa, sono ripetitiva, io sì, perché non so, non mi odio mai nulla, allora questa è la, ah sai dove ve l'ho fatta vedere? Cosa c'è nel mio beauty, che l'ho affilata lì e ve l'ho fatta vedere? Allora, questa è la terra, e questo è il bronze, no, illuminante, come si chiama, illuminante, ve la faccio rivedere, che non si vede una cippa, di me oggi, la metto ogni giorno, perché il fondo tinta è troppo bianco, non si vede una mazza, io non so se avevo, prima di mandarle in produzione, controlla se si vede le cose, se funzionano, o forse la mia pelle è troppo chiara per vederle, però vabbè, quando le vado a struccare, come posso dire, ci sono sulle salviette, c'è questa terra sulle salviette, quindi, qualcosa fa, però, però se lo passo e non si vede poco, che ci posso fare? E Avost ha sbagliato la formula per fare, sta, credo eh, che io, forse non è come pretendo io, che lo pretendo, proprio nera nera, eh, che si vede, come lo passo, si vede, forse non è come, no, vabbè, questa è la terra che scende in campagna 5, la nuova Avon Glow, questa forse la posso anche io, non so se si vede, no, questo è il, vabbè, io ripeto le cose, poi l'ultima cosa, l'ultimo acquisto che ho fatto dai 99 centesimi è questo blush di EA Essence, pagato 99 centesimi, 0,2, lo 0,2, mi pare che c'era anche lo 0,1, però mi capava questo, quindi, no, oggi non ho questo blush, ho quello di Apple, non so se si vede, questo si vede, che vuol dire che, allora, si vede, eh, è un rosino, non so, allora, nulla, scusate, non mi ha registrato il finale questa maledetta macchinetta, io vi mando un grandissimo bacio, ciao, e ci si vede al prossimo video, spero che sia meglio di questo, nulla, ciao Ciao